Gli incarichi affidati a professionisti esterni avrebbero richiamato l'attenzione della Guardia di Finanza che ha inviato propri uomini al municipio di Piazza Cavour a Favara. I militari per più giorni avrebbero passato al setaccio gli atti deliberati. Pare che nel mirino delle Fiamme Gialle ci siano gli incarichi affidati a partire dal 2009. Al momento c'è massima segretezza sulla vicenda. Non si sa infatti se la procura della Repubblica di Agrigento abbia avviato un'apposita inchiesta o se l'arrivo della finanza al municipio possa in qualche modo essere collegata ad altri motivi. Sicuramente la presenza dei finanzieri nelle stanze del palazzo ha suscitato notevole curiosità non solo tra i dipendenti ma anche tra gli amministratori e consiglieri comunali. Le recenti inchieste che hanno interessato la vicina città di Agrigento potrebbero in qualche modo allarmare la classe politica favarese che fino ad oggi è stata solo spettatrice delle debolezze altrui.